Giovedì prossimo la vecchia edicola di Largo Baciocchi sarà rimossa e presto toccherà anche a quella in Piazza Duomo, lo annuncia l'assessore ai lavori pubblici Matteo Buongiorni. Le strutture di vendita in centro storico, chiuse e abbandonate da qualche anno, saranno dunque demolite con l'obiettivo di garantire un maggiore decoro urbano. Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale ha avviato anche l'abbattimento dei chioschi fatiscenti, a partire da quello in Via Taverna, davanti all'ospedale. Resta invece in una fase di stallo la rimozione dell'ex bar alla farnesiana tra Via Caduti sul Lavoro e Via Falconi. L'intervento è già affidato ma l'immobile risulta tuttora occupato da un senzatetto straniero.